Siamo qui con il Presidente Acerro della Società di Gestione Puglia Aeroporti. Che cos'è questa iniziativa Navi Volanti? La volontà di comunicare quello che il nostro percorso ha appena avviato a seguito di conclusione di una gara europea con un ATI che ci mette nelle condizioni di fare un salto di qualità dal punto di vista della comunicazione. Dal punto di vista degli strumenti tecnologici e l'innovazione tecnologica che utilizzeremo per comunicare si tratta di grandi devices sostanzialmente e quindi un fortissimo impatto della comunicazione digitale. Una innovazione perché ci permetterà di coniugare la cosiddetta comunicazione istituzionale non so penso agli orari dei voli la prima cosa che mi viene in mente insieme a elementi di natura commerciale altresì riteniamo che sia idoneo in questo contesto di modernità degli aeroporti di Puglia e mi sia concesso dirlo che si amplifica con l'inaugurazione a breve della nuova Laest di avere quindi strumenti di comunicazione e tecniche di comunicazione che siano al passi. E poi non ultimo riteniamo che in un calo del mercato della pubblicità che ha colpito un po' tutti come è sotto gli occhi di tutti la capacità di offrire servizi e prodotti innovativi e più performanti sia una precondizione per poter immaginare di avere maggiori ricavi e quindi per resistere anche a un oggettivo calo del budget della comunicazione e della pubblicità. Novità, a febbraio si dovrebbe, se non poco più, inaugurare l'ala Est dell'aeroporto. Quale sarà la sorpresa per il nuovo passeggero che utilizzerà questa ala Est? Sicuramente aree belle, funzionali, permetteranno ai passeggeri che transiteranno attraverso l'aeroporto di Puglia, l'aeroporto in questo caso di Bari Palese di avere una fruizione dell'infrastruttura aeroportale e dei suoi servizi più idonea, più comoda e permetterà anche ai nostri clienti, penso per esempio a Tarkish Airlines che utilizzerà quell'area collegandoci a questo hub internazionale che è l'aeroporto di Istanbul di avere un motivo in più per gestire le sue operazioni in totale comodità e anche in infrastrutture che oltre a essere moderne sono capaci anche di essere state realizzate e sono state realizzate sulla base delle nuove esigenze degli operatori aerei. Non dimentichiamo che l'aeroporto di Puglia gestisce anche ancora altri tre aeroporti, quindi quattro con Bari. Quali saranno le novità estive per questi quattro aeroporti? Bari si avvia ad vivere questo ingrandimento che non è solamente un ingrandimento fisico, anche qui la nuova ala si lega al ribustimento delle rotte. Brindisi ha in corso una serie di interventi infrastrutturali che guardano la migliore operatività ma anche una migliore fruibilità da parte dei passeggeri, penso per esempio all'ampliamento di tutta l'area dedicata ai passeggeri per l'imbarco. Grottaglia ha oramai preso questa strada in una dimensione che ci è noto essere nazionale ed europea. Foggia siamo in attesa del giudizio da parte della Commissione europea e della Commissione via rispetto al Porci nelle condizioni di fare non solo ciò che è stato programmato ma ciò al quale ci siamo dedicati mettendo a gara questi 14 milioni di euro con una giudicazione seppur non definitiva già fatta che ci metterà nelle condizioni di allargare la pista e di allungare anzi la pista dell'aeroporto Gino Lisa. Ahimè troppo piccola oggi per garantire una dimensione di traffico idonea allo sviluppo e alla continua crescita di un'infrastruttura e quindi la realizzazione della pista o meglio l'allungamento della pista potrà essere il fattore di novità per il Gino Lisa. Siamo qui con l'architetto Casti che ha presentato questa novità qui sull'aeroporto di Puglia ecco ci parli un po' di questa comunicazione e informazione. Diciamo che mentre la tecnologia di broadcasting è una tecnologia sperimentata perché la stiamo utilizzando ovunque lo sfruttare questa tecnologia per integrare la pubblicità commerciale all'informazione è una novità assoluta ma a livello mondiale nel senso che nessun aeroporto si è mai provato a cimentare nell'integrare le informazioni diciamo istituzionali quelle che vengono per quello che riguarda l'Italia dall'ENAG per intenderci alla comunicazione commerciale. Quindi questa è la prima volta abbiamo la possibilità di fare un aeroporto praticamente di nuova generazione vergine quindi partire da qui è una cosa importante e c'è soprattutto la volontà della Puglia e in particolare degli aeroporti di cimentarsi in questo impegno perché si tratta di un impegno di far coincidere sullo stesso schermo l'informazione all'utenza e la comunicazione commerciale. Ecco, quanti saranno le vele e smartphone che voi inserirete nel contesto dell'aeroporto di Bari? Beh, allora, se vogliamo parlare di Bari ma potremmo parlare di tutti gli aeroporti anche non solo della Puglia l'idea è quella di mettere meno cose possibili l'idea è quella di abbassare il grado di tossicità degli schermi e quindi metterne meno possibili. La fortuna che abbiamo e che può essere migliorabile nel tempo è che conosciamo con precisione i punti di interesse i punti, diciamo, cosiddetti traffic builder che costruiscono traffico e quindi l'idea è quella di mettere meno spazi possibili per migliorare l'efficienza della comunicazione. Ci saranno una dozzina di impianti. La grande flessibilità del progetto che non ha vincoli al suolo ci consente di spostare gli impianti compatibilmente con le necessità e quindi anche di provare le soluzioni. Gli impianti sono dotati di rilevazione dei passaggi quindi noi capiremo quando ci sono impianti magari meno efficienti ed alte efficienti. L'importante è quella di riuscire a coprire tutto quanto il traffico. Ci sono delle tecniche, diciamo, che abbiamo provato in parecchi aeroporti in giro per il mondo e ci consentono di capire che alcune aree sono più produttive di altre in termini di comunicazione. Per esempio l'area cosiddetta sterile cioè quella dove si entra col biglietto e basta è un'area molto interessante perché i tempi di attesa sono più lunghi.